con la prima che sostiene la seconda. Esiste un solo tessuto sociale di cui gli stranieri fanno parte e, come sappiamo, in questo momento non è soltanto, l'abbiamo appena detto per i minori non accompagnati, non è soltanto una questione di civiltà, è anche non mettere in contraddizione e in competizione queste due categorie di cittadini, è anche una questione di sviluppo. Grazie. Grazie a lei. È scritto a Parano del Monchiero, ne ha facoltà. Guardi, Presidente, noi, avendo sottoscritto la mozione di maggioranza che cerca di esprimere delle indicazioni positive sia per quanto riguarda il miglioramento dell'accoglienza degli stranieri sia per quanto riguarda le misure di sostegno ai nuovi poveri italiani, non posso che annunciare il voto favorevole a questa mozione. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Avverto che la mozione Rampelli ed altri, numero 1, 1409, è stata sottoscritta dal deputato Palese e che, con il consenso di altri sottoscrittori, ne diventa il secondo firmatario. È scritto a parlare, onorevole Abrignani, ne ha facoltà, che però non vedo in aula. Onorevole Motola. Chiedo di poter consegnare l'intervento. Bene, grazie. Onorevole Rondini. Sì, grazie, Presidente. Vedete, noi non ci aspettavamo un altro giudizio da parte del Governo, se non quello che abbiamo sentito rappresentato oggi in aula. Attendo, onorevole Rondini, attenda. Se disturbiamo, possiamo interrompere la seduta. Onorevole, grazie. Grazie. Prego, onorevole Rondini. Grazie, Presidente. Bene, dicevo che non ci aspettavamo un altro parere da parte del Governo, se non quello che abbiamo ascoltato, e cioè un parere negativo su...